Siamo al pronto soccorso di Soveria Mannelli, amici telespettatori. Oggi vi parliamo appunto di alcuni pronto soccorso di aree, chiamiamole così, disagiate perché innanzitutto per il livello di comunicazione, quindi parliamo delle strade, quindi la possibilità di raggiungere facilmente questi pronto soccorso. Poi c'è la questione che sono aree montane, quindi aree che potremmo considerare particolarmente disagiate. Se ne parla proprio oggi qui a Soveria Mannelli in un incontro o riunione che è stato organizzato tra gli operatori sanitari del pronto soccorso dei presidi ospedalieri ricadenti, appunto come dicevamo, in aree particolarmente disagiate. La sanità è molto complessa dappertutto, in Calabria forse in modo particolare viviamo un momento storico difficile. L'emergenza di per sé è quella che ritengo dovrebbe essere sempre messa al centro dell'attenzione, perché dall'emergenza dipende addirittura il futuro delle persone e quindi io sono convinto che bisogna dare centralità all'emergenza sanitaria e all'emergenza appunto degli ospedali in particolare. Non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza, c'è bisogno di una ripresa importante dell'ospedale civile della nostra città, ma credo di tutte le aree disagiate, cioè non è possibile che non ci siano medici, non è possibile che non ci siano nemmeno i piccoli interventi in chirurgia. C'è la necessità di rilanciare la sanità in queste aree e dare certezze a chi vive soprattutto in montagna. Noi abbiamo avuto diciamo sempre un atteggiamento, io sono sindaco da sei mesi, abbiamo avuto un atteggiamento responsabile anche rispetto a quella che era poi la redazione dell'atto aziendale e abbiamo sempre sostenuto questa posizione, cioè vale a dire quanto previsto dall'atto aziendale deve essere comunque realizzato. Ho fatto l'esempio della risonanza magnetica che è stata installata nel mio nosocomio, noi abbiamo il problema poi del reperimento del personale, quindi non è soltanto una questione diciamo di strutture, ma c'è una questione anche di personale che va reperito.